Vendo affitto permuto nel 2020 ha deciso di mettere a disposizione un servizio veramente esclusivo in grado di certificare la commerciabilità dei beni mobili il servizio che prende nome di servizio non stress prevede un'attenta analisi di tutta la documentazione recuperata presso gli archivi comunali e mediante l'ausilio di un tecnico esterno abilitato e scritto all'albo tramite dichiarazione verrà certificato il possesso di tutti i requisiti di tutte le documentazioni necessarie per la libera commerciabilità e un sicuro atto di compravendita immobiliare qualora dal controllo si verificassero delle uniformità edilizie o si verificasse l'assenza di documentazione necessaria per garantire la perfetta commerciabilità del bene il tecnico incaricato metterà a disposizione un preventivo economico ed un piano d'azione per permettervi il prosseguo della trattativa immobiliare. Questo servizio verrà messo a disposizione di tutti i clienti e sarà messo a disposizione gratuitamente per tutti quei clienti che decideranno di affidarci la vendita del proprio immobile mediante un incarico in esclusiva. Se stai vendendo casa e vuoi avere zero pensieri affidati al nostro servizio non stress. Rimaniamo a tua disposizione per ulteriori informazioni meriti.